partiti. Canarina all'esterno è molto veloce a uccidere le gabbie e si porta a condurre con all'interno Remanian Brown. In seconda linea seguono lungo la corda Crossout con all'esterno Sitapur quindi inesplicabile a largo di tutti Wimmer. Passa in vantaggio lungo lo steccato Remanian Brown nei confronti di Canarina al cui esterno si propone ora Crossout più indietro Wimmer all'esterno quindi Sitapur è inesplicabile. Siamo a 300 dal palo con Canarina che è passata in vantaggio sotto la pressione esterna da parte di Crossout. I due sono in lotta all'interno è Canarina a largo Crossout più indietro Wimmer. Siamo nel tratto finale con Canarina all'interno Crossout all'argo lotta incerta nel finale c'è lotta fra Canarina, Crossout e Wimmer tre cavalli vicinissimi sul palo davanti a Sitapur. Andiamo a rivedere le immagini di questo bel finale con Canarina all'interno e Dario Vargi che si sono arroccati allo steccato e hanno probabilmente difeso il vantaggio minimo fin sul palo nei confronti di un ottimo Crossout e di Wimmer finito bene all'esterno a ridosso. Quindi il probabile ufficioso arrivo della sesta di Napoli è 1-5-3 ma sarà meglio aspettare il risponso del giudice d'arrivo visto i minimi distacchi.